Bastano tre secondi alla Mazzarese per passare in vantaggio nel match contro la Nissa allo stadio Nino Vaccara di Mazzara del Vallo. Dopo il fischio d'inizio, direttamente da centrocampo, il capitano Gino Giardina trova il gol, uno dei più veloci della storia del calcio, sorprendendo il portiere biancoscudato. Sull'1-0 la Mazzarese non si ferma e punta al raddoppio che arriva al nono con Perrone. Sotto di due gol diventa tutto più difficile per la Nissa che accorcia le distanze solo nel finale con Dibbiase. Per i Nisseni la decima sconfitta della stagione, la quarta nelle ultime cinque partite. I risultati della ventunesima giornata. Profavara Casteldaccia 2-0 Mazzarese Nissa 2-1 Enna Don Carlo Misilmeri mercoledì alle ore 15 La classifica Acragas 49 Enna 48 Profavara 45 Don Carlo 40 Mazzarese e Mazzara 35 Sciacca 34 Casteldaccia 28 Oratorio Marineo e Nissa 25 Leonfortese 23 Castellammare 18 Resultana 17 Gela 16 Cus Palermo 14 Parmonval 8 Cus Palermo 14